Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skilto e siamo qui oggi su Clash Royale Oggi ho appena copiato un mazzo da un mio compagno di clan Eccolo qua E adesso proverò ad utilizzarlo, vediamo un po' come se la cava Cominciamo a cercare una battaglia, benissimo Vediamo, contro il livello 9 può essere anche un po' equilibrata Comunque io non so usare questo mazzo, non so che combo si possono fare Però io comincio a mettere il golem del ghiaccio che costa 2 Speriamo non abbia... ecco ovviamente ha qualcosa che mi distrugge gli sgherri Mi ha venuto uno zap Ok no, me l'ha distrutto l'ultimo Vabbè io attacco di qua No, altri sgherri, altri sgherri Ok, qua gli spiriti del fuoco potrebbero servire Nonno, ma quanto danno ci sta facendo Aiuto Dai abbiamo fatto anche noi un po' di danno, però lui ce ne ha fatto un sacco Però il golem del ghiaccio cosa serve, scusa Va bene che costa solo 2 però E protegge un po' le altre carte Però non mi sembra così forte Vabbè è tipo un gigante che non fa molto danno Oh 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 Qua come faccio? Come faccio qua? Zap Ok, benissimo Cioè no, non per niente, non benissimo però Eh, poteva andare peggio Vabbè, magari mettiamogli dietro i barbari scelti Boh, io ci provo, non l'ho mai provato Nooo Nooo Nooo, pure Vai andate Cioè, come si chiede Nooo Che brutto Cioè Vabbè, qua ci butta giù la torre No, non ce la butta giù Ci fa però un sacco di danno E uno è sopravvissuto Vai, vinci Butta giù la torre Bravo Dai, vai, vai Vai, vai che sei forte Vabbè, fa niente Eh, vabbè Ecco, il golem del ghiaccio Cominciando Vabbè, qua ci butta giù la torre Ecco, non è Non possiamo farci niente Ce l'ha buttata giù sicuro Però possiamo almeno non farla arrivare alla torre del re Ecco, boom È caduta Io direi di attaccare così che Se non si riesce a difendere Con Ok, ho gli spiriti del fuoco Ho la zap Ho tirata malissimo Che schifo Potrevo tirarla molto molto meglio Qua No, non abbiamo buttato giù la torre No, no, no Questo è un male Male, 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 male Che poi mettiamo il golem del ghiaccio Magari riesce a buttare Ma lui fa del danno contro la torre Spero di sì Mi sa che devo utilizzare la palla di fuoco Qua gli spiriti del fuoco Spiriti Ok Qua Oh, aiuto, aiuto, aiuto No, ma come Quante robe ci sta buttando giù? Cioè qua non ho nessuna carta utile per difendermi Oh, no, basta Andiamo ad attaccare così Che magari vinciamo No Questo mazzo Non è forte Va bene Non voglio scendere però Non voglio scendere Se scende in arena 8 No, no Cosa fai corriandoli che ho perso? Quanti trofei sono? 2611 Oh, oh Devo fare questa battaglia E vincerla Perché se no Finisco in arena 8 Ed è brutto Brutto No, vabbè Neanche un cinese Va bene O un giapponese Non lo so Magari uno Sono fortissimi Perché non ho generato uno più debole? Vabbè Comunque utilizzo questo mazzo qua Che è il mio solito Eccolo lì il gol Mi vincere il bottaniere Che io direi di buttargli la palla di fuoco Mio dio quanto spara veloce Ok Muore, 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 muore Ok Non ho ucciso quel Arcere lì Oh Va bene, va bene Ho l'orda di scheletri Ma evocala Se no l'ho perso Cioè No Evocala Sbrigati Quanto odio la connessione lenta Ancora Non lo so Ma il tronco lo uccide? Se io butto il tronco Eh, almeno l'ho ucciso Ho sprecato la spalla di fuoco prima Potevo utilizzare il tronco Che brutto che è però Non è che Non mi piace molto Vabbè Magari è forte Non lo sta usando bene Però non lo so Non è che mi piaccia molto Questa devo vincere assolutamente No, la lapide Ma no Che tristezza Vai Ok Benissimo No, non per niente bene Perché Ok, almeno l'arcere è morto Dai Lato positivo Questo E non deve farci più danno Quindi Devo uccidere anche quello lì Che può essere Potente Cioè, in realtà Non so neanche quanto danno faccio Perché non l'ho mai usato Io Non è anche mai arrivato alla torre Quando l'ho avuto io Ok No, 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 no Ok Vabbè, qua muore Senza utilizzare niente Potremmo utilizzare Barbari scelti Orda di sgherri Ok Ce li ha evocati Gli sgherri E anche I barbari scelti No, no, vai Vai, 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 vai Ok No, 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 no Eh, 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 eh No, ce li ha congelati Ok Abbiamo fatto un pochissimo Di danno Alla torre Dai, usiamo il bosca No, no, no No, perché gli spiriti del fuoco Devono andare sprecati così Adesso vanno Non so se vanno contro Bene Dai, va bene Qua non posso usare L'orda di scheletri Se no Finisco Urca Adesso posso usare L'orda di scheletri Sì Benissimo Aiuto Quante robe Mi stai buttando giù Cioè Più di così Dov'è che le trovi Tutto l'elisir Non lo so È una fabbrica infinita Di elisir Vabbè Maga può essere Hai fatti i trucchi Del gioco Siamo in vantaggio Non me ne ho accorto Mio dio È velocissimo Il goblin cerbottaniere Va bene Io utilizzo la palla di fuoco Per non avere problemi Qua intanto Si sentono rumori Fa niente Qua buttiamo giù la lapide E vabbè Escono quattro scheletrini Che non mi servono Cioè Da cui non mi difendo Ancora No 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 Muori muori Il tronco è andato in ritardo Perché vanno così in ritardo Le truppe Siamo ancora in vantaggio Eh sì No basta Perché Questa è una partita difficile No ecco benissimo Boom Tutto Tutto È caduto giù tutto Ok Buttiamo il boscaiolo lì Boom Che butta giù Tutto il possibile Ma dobbiamo buttargli giù anche la torre Non solo le truppe Vai ecco Buttiamo giù lì Eh intanto Ah bene Si è buttato a caso Lo spirito del Del ghiaccio No 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 Vai tronco Ok No 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 Niente pareggio Niente No Non è possibile Pareggio Avesse hai lasciato lo scontro Adesso Che brutto Dai No dai Che tristezza Doniamo una valchiria Dona Non mi fa donare le case Ah si me l'ha donata Benissimo Eh E per questo video è tutto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale E Ci vediamo in un altro video Ciao a tutti